Ciao amici di The Case Machine, bonus track dell'unboxing della Pip-Boy Edition di Fallout 4 perché noi cialtronamente ci siamo dimenticati di aprire questa busta, cioè abbiamo pensato che la Steelbox contenesse solo il gioco, invece abbiamo scoperto, aprendola guarda, la apriamo con voi così brutalmente, viene sverginata così, a parte che qui c'è un fantastico rilievo che a tatto è una meraviglia, voglio passare la giornata a fare questo lavoro, purtuttavia aprendola oltre al disco del gioco signori c'è il Season Pass che pubblicizza poi tutto quello che saranno i DLC di Fallout, la guida di sopravvivenza dell'abitante del Vault con tutta la mappa dei controlli del DualShock, ma soprattutto questo fantastico oggetto che apro qui così brutalmente, ve lo faccio vedere, è il Vault-Tec con tutta la spatafiata, delle abilità, dei perk, delle cose, tutto disegnato in modo bellissimo, tra l'altro, io credo che questo me lo appenderò direttamente in camera da letto, con buona pace di mia moglie che non vuole niente appeso in camera, ma questo io me lo metto lì, di fianco al lettuccio e me lo guardo. Grazie